momenti di terrore, momenti di distruzione qui al campo dal campo dell'apocalisse, Duccio e Riccardo, aiuto, mi sta portando a me stiamo morendo ed ecco il meraviglioso tavolo progettato dal nostro cato andato in distruzione che brutto cielo tempesta è qui, dalla tenda dei sopravvissuti intervista ai sopravvissuti ciao ciao questo va su youtube italia 1 3,8,6,4,7,7,9,3 ciao ho il suo gratis ho su youtube intami siamo Luca cosa ho da dire? è tornata in merda è solo un po' burrascosa signore come si sente a resistere al campo dell'apocalisse perduta che vi è successo? non la faccio più mi hai falluto qui nel campo dell'apocalisse duccio brassoli si la nostra tenda è allagata soldato andiamo a vedere povero ragazzo parole dure signori parole dure di un giovane scout sfuggito alla tormenta per miracolo aiuto aiuto camera mella terra seppure guardate gli spollati salutate ciao io lo metto davvero c'è pure la signora in giallo non hai capito perché ancora è successo questo scatapaccio ma è giocato mi viene con me a smontare il percorso Ete nessuno siamo proprio nel cuore della catastrofe buongiorno no 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 c'è Saba è una battuta ciao 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 ci sta devastando la piazza ma cazzo ma che male ve lo so il palo in testa ho visto il ringeray ho visto il ringeray sono a fuori ciao Fabio oggi 6 agosto giusto compleanno di Alessandro Gallo è stato scatenato l'inferno è stato scatenato l'inferno è stato prevenuto dalle orate dal vale è tutto muovi lo schermetto ciao mamma atteggiare ciao Laura è stato scatenato l'inferno